io mi trovo veramente male in questo gioco e non so come i giochi di moto non dovrebbero essere così ma dovrebbero essere divertenti e questo a me non mi diverte a parere mio cerchiamo di fare il meglio per questa gara però vado lungo, non c'è niente da fare sono impacciato nella guida se il freno più tardi è un casino e comunque la moto il posteriore scoda pattina eh no però proviamo a superare un po' in staccato attenzione qua il cordolino magico se avete consigli per questo gioco per come farmi guidare meglio scrivete la 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 non accordo l'alarm sto cercando di fare l'impossibile proprio per per tenere in pista questa moto che io faccio veramente fatica no non devo tagliare la curva guardate come come sbiscia il di dietro proprio cioè è una cosa pazzesca un'altra cosa No, 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 no Teniamola dentro Niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima